Prima di iniziare con la classica depurazione del cambio stagione, per arrivare a affrontare quest'anno più leggeri, quest'anno che sarà intenso di lavoro, di studio, proviamo anche a ripulirci dalla spike. Se volete sapere qualcosa di più sulla spike andate sul nostro profilo. Ormai ci sono tantissimi studi pubblicati su questo, sul fatto che la spike permanga a livello di diversi organi, permanga nel sangue e quindi è importante pulire. Uno studio bellissimo che hanno pubblicato i giapponesi è sull'anattochinasi, una proteasi che degrada enzimaticamente questa proteina e che arriva benissimo nel sangue. L'anattochinasi noi l'abbiamo associata alla bromelina, alla papaina ed altre proteasi e abbiamo ovviamente aggiunto ancora NAC, N-acetilcisteina e Ribes, per lavorare sempre sull'infiammazione e sullo stress ossidativo che potrebbero già essersi creati. Questo prodotto che contiene queste molecole l'abbiamo chiamato enzimavir. Anche questo ha un video molto più approfondito, lo potete guardare. E poi se volete lavorare anche sui possibili danni o prevenire meglio ancora i possibili danni che può aver creato la spike, potete lavorare sui vasi, ripristinare la permeabilità, sfiammarli, fluidificare un po' il sangue e tutte queste molecole le trovate in salvacor, oppure riattivare i mitocondri e il meccanismo dell'autofagia con diverse molecole naturali che sono state studiate proprio su questo meccanismo e le abbiamo messe in solvete. Se volete altre informazioni andate sul nostro sito www.signumlab.it 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 www.signumlab.it